Sera della moviola umana, rimani qui, chi è che mi fa... Benaglio mi fa... Mamma mia che è pericolo, io sono il pievo alto, pievo che non ci sta. Chi faccio io? Allora, tu fai casa adesso, questa è la linea di porta, diciamo così, questo è il pallone che arriva, il calcio l'angolo del quarto, la linea di porta. Non ci arrivo, cesta, schiena e gol. Così, moviola umana, meravigliosa, partiamo... Alla grande! Alla grande, grazie.